segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te quanto è complicata la partita e poi quante implicazioni ha in europa penso che ci sia anche questo tema qui perché quello che è immerso nel fine settimana è stato anche questo scontro con con l'europa ma anche questo mi è sembrato soffrire delle stesse caratteristiche del dibattito sulla corte dei conti e quindi di essere come dire è stato amplificato quello che ha detto l'europa e anche le poi e viceversa no in un certo senso di reazioni però rispetto all'atteggiamento dell'opposizione in genere della sinistra nei confronti del governo meloni devo chiedere al presidente violante perché c'è stata una prima pagina del fatto quotidiano dell'altro ieri che era molto critica con lei con cassese cassese violante i patrioti di giorgia giorgia si affida cassese violante su come per un atteggiamento diciamo tanto perché sia professor cassese sia lei punto sulla corte dei conti avete avuto un atteggiamento non polemico ma in generale come di una nel suo caso perché un esponente anche del partito democratico come un atteggiamento di di apertura di favore di collaborazione con con un nemico questa è l'accusa devo smentire il fatto quotidiano le chiedo per carità però non c'è una diciamo e fa parte della polemica basta basta leggere con attenzione basta lì non c'è il fatto che sia stata istituita questa comitato perché sia lei sia io mi sono dimesso per comitato quello sul sui livelli del della comunque c'è una commissione che è stata istituita i miei impegni non mi consentono di proseguirmi e mi sono dimesso ci sono da un giudizio critico cioè ho detto che è il suo bene però è il comitato che deve fissare quali sono i livelli essenziali di prestazione in funzione della riforma dell'autonomia differenziale il governo del paese mi ha chiesto di far parte di questo comitato ritenendo che avessi le competenze non sono in modo giusto o sbagliato o sono stato per un mese credo ho visto che non era compatibile quell'impegno che è un impegno enorme per quella è una questione radicale per la democrazia italiana non avevo il tempo per dedicarmi quindi non era per una ragione per una ragione politica diciamo in questo caso ho dato questa motivazione va bene va bene diciamo però no ci sono tanti esponenti tra l'altro c'è franco bassanini adesso un elenco sono 61 esperti di tutte le ognuno risponderà per sé insomma sì 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 certo no no era per fare il quadro di questa no sentito l'accento molto critico sulla